ciao a tutti amici di youtube e benvenuti in questo nuovo video in questo video voglio spiegarvi come costruire un piccolo ventilatore portatile fai da te come potrebbe essere questo che vediamo inquadrato qui davanti cominciamo subito partiamo dai componenti e adesso ve li mostro bene i componenti di cui avremo bisogno per questo progetto saranno i seguenti allora un cavo usb tagliato chiaramente che non usate più una ventola delle forbici e questi cavi elettrici per prolungare appunto il collegamento e un interruttore e dell'astro isolante di cui purtroppo ora sono sprovvisto e ne giocherà la qualità del video bene partiamo subito da in pratica come spiegarvelo a questo punto vi chiederete dove procurarvi tutti questi componenti eccetto le forbici ovviamente è molto semplice allora il cavo usb ve l'ho detto basta che vi procurate un comune cavo usb per cellulari che non usate più e appunto poi vi spiego come usarlo ma lo trovate ovunque la ventola la potrete trovare in in vecchi pc chiaramente rotti anzi se andate in negozi di informatica e chiedete se ce le hanno probabilmente ve le regaleranno anche perché non li non gli servono perché chiaramente i pc sono vecchi non li fanno più e quindi queste ventole vanno in disuso oppure le trovate su internet per la modica cifra di 5 10 euro al massimo vabbè le forbici ce le abbiamo tutti questo cavo elettrico lo trovate lo potete trovare ovunque anche su ebay ma io questo qui l'ho ricavato appunto da un vecchio cavo usb comuni oggetti riciclati diciamo l'interruttore anche questo l'ho preso da un vecchio pc rotto mi raccomando non smontate pc aggiustati e anche questo probabilmente lo trovate probabilmente se lo trovate insieme alla ventola siete molto fortunati partiamo subito dal su come procedere bene la prima cosa da fare è individuare questi due fili che escono dal retro della ventola sono un filo rosso e un filo nero e diciamo che rappresentano le polarità appunto il filo rosso il positivo è quello nero e negativo ma la maggior parte di voi probabilmente lo saprà ma è meglio meglio specificare non si sa mai bene quello che dovremmo fare è molto semplice ovvero dovremmo spelare le estremità di questi cavi come farlo molto semplice o usate le forbici se siete capaci usate le forbici e spelate il cavo oppure semplicemente con l'accendino passate passate appunto lungo tutta l'estremità del cavo avanti e indietro e dopodiché con con le dita staccate il rivestimento del cavo e verrà via in un attimo ora vi faccio vedere ed eccoli qua i due cavi perfettamente spelati grazie al mio accendino ora in pratica vi spiego come effettuare i collegamenti anzitutto dovremmo prendere l'interruttore questo qui e collegarlo al cavo positivo semplicemente avvolgendo i fili tra di loro ora vi faccio vedere come ho fatto ecco qua come si può vedere i due fili sono avvolti insieme purtroppo come vi ho detto attualmente sono sprovvisto di nastri isolante ma lo andrò a comprare entro domani bene come vedete appunto ho fatto un buon lavoro in pratica avvolto il cavo del positivo lungo questo filo di rame che è molto più spesso e poi ho pinzato semplicemente il filo di rame piegandolo a u e l'ho pinzato appunto per rendere il collegamento più sicuro possibile questa estremità andrà collegata al cavo positivo di questo cavo del cavo usb bene come vedete ho spelato il cavo usb e al suo interno troveremo questo se è un cavo di buona qualità chiaramente troverete questa che è una specie di guaina che avvolge i quattro cavi contenuti al suo interno è una guaina anti disturbo in pratica all'interno del cavo usb troveremo quattro cavi uno rosso uno nero uno bianco e uno verde quello bianco e verde quelli bianchi e verde li possiamo tranquillamente tagliare via perché non ci serviranno per questo progetto in quanto servono per trasmettere i dati a noi non servono serve solo l'energia elettrica comunque se siete fortunati potete trovare cavi usb che hanno solamente cavo rosso e nero ora vi mostro come ho fatto bene ed ecco qua che ho spelato appunto non li ho ancora spelati scusatemi ma ho semplicemente tagliato via il rivestimento protettivo e i due cavi che non ci servivano appunto ora tutto quello che dobbiamo fare è spelare questi due cavi e il positivo lo colleghiamo all'altra estremità dell'interruttore che vi ho mostrato in precedenza ed è qui eccola qua a questa estremità lo collegheremo mentre il negativo lo andremo a collegare direttamente al polo al filo negativo della ventola appunto ovviamente potete utilizzare questo che è semplice cavo elettrico appunto proprio per effettuare il un prolungamento se vi serve infatti l'ho mostrato in precedenza proprio per questo vi mostro il lavoro che ho fatto ecco il collegamento che ho effettuato allora abbiamo il positivo del cavo usb collegato all'interruttore che si collega al positivo della ventola e poi abbiamo il negativo direttamente collegato al negativo della ventola bene come faremo ad alimentare il nostro ventilatore portatile è semplicissimo dai cinesi mi sono procurato questo che è un alimentatore portatile un power bank se volete chiamarlo così per la modica cifra di 7 euro quello che dovrò fare è semplicemente collegare il cavo usb al nostro alimentatore e adesso ve lo mostro ed ecco tutta la catena finale in pratica abbiamo l'alimentatore il cavo usb che si collega all'interruttore e infine il ventilatore vero e proprio bene adesso ovviamente come vedete l'alimentatore e la ventola sono spenti dal momento che vado ad accendere interruttore si accende anche il ventilatore ovviamente questo è un lavoro un po fatto maluccio perché come vi ho detto non sono provvisto di nastro isolante attualmente sarebbe avvenuto un bel lavoro chiaramente se avessi avuto il nostro isolante e un po di guaina termorestringente bene però come possiamo vedere questo progetto funziona e direi che fa anche una bella aria oltretutto sentite la ventola non si sente è silenziosissima ovviamente ci vuole un po di fortuna beccare questo tipo di ventole molto silenziose questa qui nonostante funzioni a 12 volte io ne ne do 5 fa davvero tanta aria il che mi porta a pensare che magari il computer che raffreddava andava a 2000 gradi per tutta l'aria che fa con 12 volte bene in sostanza questo è il progetto in totale vi verrà a costare al massimo intorno ai 10 15 euro magari anche molto molto meno verso i 5 euro se trovate il solo prezzo dell'alimentatore solo 5 euro e con 5 euro siamo stati in grado di realizzare un ventilatore completamente fati a te che un comuni oggetti di recupero tranne ovviamente l'alimentatore allora spegniamo ecco bene direi che con questo il video si conclude io vi ringrazio infinitamente per la visione come al solito e ci becchiamo nel prossimo video ciao a tutti ciao a tutti